Oh, signori, Dokkan! Dokkan, 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 Dokkan! Ehm... E' lui! Guarda... Ma esce Koto, guardate come esce Koto... No, no, va bene, no. Esce Dokkan, è Dokkan! Non è uscito Koto, però è Dokkan. Fermi, fermi, eccolo, eccolo. Ci siamo. Che poi effettivamente Koto è quella lì global, mi pare. Ecco perché non esce. Sì, sì, sì. Che ci droppate? Fa troppa roba buona perché... Fa un po'... Un'ora e mezza di live ci siamo visti per vedere Dokkan. Sì, ok? Ok, dai. Ok, grazie, grazie. Non, non, vi гр seis. Oh! Oh! Allora ha detto Super Dragon Ball Heroes Collab Gacha Ho sentito bene Vabbè Vediamo Arts Va bene Allora mi devo ricordare Chi fa parte Dell'arco narrativo di questo Arts Gokul Trestinto Sapete che qua ci potrebbero cicciare fuori Gokul Trestinto Super Arts Vabbè Non mi sconvinverà troppissimo Però ok Poi dai 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 Dacci altri Dacci altri per favore Eccolo un altro I tour I tour Di Gokul Di Bardak IV Gohan Super Saiyan 4 E Della Kaioshin E di Putin Questi sono datene d'occhio Questi sono datene d'occhio Li tengo pure Mi pare che tengo uno di due O tutti e due proprio Mi interessano una cifra Questi sono datene d'occhio Perché quando lanciano Sti tour Di Heroes Di solito sono sempre forti Teniamoli d'occhio Assolutamente Pubblicità Vedo se li posso Bloccare un attimo Non sta lanciata Non sta lanciata la pubblicità Quindi per il momento Super Arts Pullabile In teoria Tour dei quattro La Kaioshin Brainwashed E Putin Solo Jap Non mi ricordo Non mi ricordo Non mi ricordo Il Global stava dietro Vero? Con Heroes Stava dietro con Heroes Nel Global ce l'abbiamo Oddio Ah ero bello Scusate Vabbè ma che si ricordo Eh non mi ricordo I nomi L'avevo piata per Putin Scusate No fra no Per favore Non te ne andare No fra Non te ne andare No La solita Scammata annuale La solita Scammata totale Annuale No Io 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 Devo smettere di regalare Spettatori a Heroes Per Non è che non ci hanno fatto vedere nulla Comunque ci hanno annunciato un nuovo personaggio Totale e i tour Peccato che dei tour bene o male Già immaginavamo Ah e vabbè Sembra che Arts avrà l'active skill Figuriamoci Sì dovrebbe avere l'active Vediamo se c'è qualche news Se arriva qualche news dal twitter di Dokkan E tutto il resto Ma dicevo che cazzo ci hanno Naruto e Boruto Sì 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 Comunque c'è l'active C'è l'active Super Arts Cioè al momento Sta passando come Incredibilissima notizia Questa qui Vi faccio vedere un attimo Vi faccio vedere l'incredibilissima notizia Di Arts Che Ha L'active skill Ve la faccio vedere Ok siete pronti Preparatevi al cringe totale Al cringiume Pronti al cringe 3 2 1 Via Ecco qua Ecco qua Ecco il cringiume totale Confermato Che Arts ha un active skill Sì Ma che cazzo Me ne frega Ma che me frega Ah per il zauardo Guarda se mi fa veramente zauardo Ancora ancora Te posso dire Ok Ma chi se ne frega Che c'ha l'active Cioè Cioè C'è la puro avere Ma non Non è che sia questa gran notizia La notizia per me Sono più i personaggi Non è l'active di Arts Di sicuro Non dico chi se ne frega Ma poco ci manca C'è te blasi che hanno annunciato Eh mi sa che è pure finito qui L'annuncio di Dokkan Hanno annunciato Arts pullabile E i tour I tour dei Super Saiyan 4 E lo dico I tour di Gohan Super Saiyan 4 Bardak Super Saiyan 4 Uh Attenzione un attimo Super Hero Ah L'annuncio di Super Hero In Blu-ray Ok 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 Vabbè io credo che la line up Poi la finiranno di annunciare Ovviamente dei personaggi di Eros Perché giustamente Non puoi fare un banner Con solo dentro Super Hearts E basta Probabilmente la line up La finiranno di annunciare Successivamente in qualche Dokkan Now Immagino Quindi fanno il Dokkan Now E li rivelano seriamente I personaggi di Eros Credo faranno così Semplicemente Vabbè credo sia finita Cioè Credo Nel senso Non che è finita Proprio la live Anche se potrebbe Essere tranquillamente finita Li hanno messi anche sui social Andiamo a vedere subito Andiamo a vedere subito Eeeh Aspetta Me lo sposto di qua Così vi continuo a far vedere la live Vedo un attimo io E se esce qualcosa Vediamo immediatamente Vediamo Eeeh Cazzi Se mi puoi dire però Quali social Ovviamente c'è Sull'ufficiale Ok Si è bloccato proprio Bloccata totale la live Che cazzo è Va bene Vediamo Allora Allora Ma sono solo i 4 tour Ah e vabbè Sti cavoli Sti cavoli Sti cavoli Ce ne può fregare di meno Cioè sappiamo già che sono i tour E basta Niente Il sogno Rimane sempre Lo stesso Ogni anno Per Per eros Il sogno Il sogno rimane